Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Tef Channel, appuntamento che apriamo parlando subito dell'ospedale come eccellenza nazionale. Il commissario del Santa Maria della Misericordia di Perugia, Antonio Onnis, ha parlato infatti della struttura ospedaliera come di un'eccellenza nella penisola. Andiamo a sentire il servizio di Paola Costantini. Parla dell'ospedale di Perugia come di una realtà blasonata che si propone come un'eccellenza nello scenario nazionale. Il commissario Antonio Onnis in un saluto inviato a tutto il personale, da una prima e veloce ricognizione, ha sottolineato tra l'altro consapevolezza che grazie al lavoro di tutti i servizi sono stati erogati in perfetta continuità dal punto di vista della qualità delle cure. Il 6 maggio Onnis incontrerà i responsabili delle strutture complesse. Nella lettera al personale, resa nota dal Santa Maria della Misericordia, ha rivolto loro il suo salute ed espresso vicinanza. Sono onorato di aver ricevuto questa investitura, ha sottolineato, e consapevole di arrivare in questa azienda in un momento particolare. Sappiate che nonostante l'impegno che la sfida richiederà, ho accettato con grande entusiasmo e spirito di servizio verso la comunità e con la consapevolezza delle responsabilità che comporta. Sono convinto, ha fermato ancora il commissario, che riusciremo a fare squadra. Lavoreremo insieme per eliminare tutte le ombre e rimettere sotto la giusta luce il lavoro che quotidianamente voi operatori di questa struttura portate avanti con impegno e passione, nonostante le difficoltà. Spero di dare un contributo per il recupero della necessaria serenità e tranquillità e vi chiedo di operare con il consueto impegno ed attenzione verso i cittadini. Domenica 5 maggio, nella Cattedrale di Perugia, il Cardinale Gualtiero Bassetti presiederà la solenne celebrazione eucaristica per il saluto dell'arcivescovo eletto di Lucca Monsignor Paolo Giulietti e l'accoglienza del nuovo vescovo ausiliare Monsignor Marco Salvi. Sono attesi numerosi sacerdoti, diaconi e fedeli provenienti anche dalla diocesi di Arezzo, Cortona, San Sepolcro dove Monsignor Salvi è stato tra l'altro parroco di Anghiari. E adesso parliamo di università perché stamattina nell'aula magna del rettorato a Perugia si è tenuto un incontro fra i sindacati FLC, CGL Umbria con i candidati al rettore dell'università di Perugia. Allora andiamo pure con le immagini relative proprio all'incontro che si è tenuto in mattinata in vista delle elezioni che si terranno il prossimo 8 maggio, eventuale secondo turno, 16 maggio, 23 maggio, eventuale ballottaggio. Sono otto i candidati al ruolo di rettore dell'università di Perugia. Si tratta di Fausto Elisei, Ambrogio Sant'Ambrogio, Franco Cotana, Francesco Tei, Fabrizio Figorilli, Elena Stanghellini, Maurizio Liviero e Claudia Mazzeschi. Gli aventi diritto al voto saranno all'incirca 2.500, di questi più o meno 1.200 sono membri del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e dirigenziale, collaboratori ed esperti linguistici. Seggi aperti dalle 8.30 alle 18.30, in particolare stamattina i sindacati hanno chiesto attenzione a quello che è il futuro post-universitario degli studenti centrando gli interventi per quanto riguarda proprio gli esponenti dei sindacati sul ruolo del dottorato sviluppi quello che sarà e sulla sempre maggior certezza che l'università possa condurre poi ad un'assunzione finito il corso di studi. Parliamo adesso di politica perché è stata presentata stamattina, sono stati presentati candidati della lista Nazione Futuro e il programma elettorale come ci spiega meglio. Paola Costantini. Sono 21 gli aspiranti consiglieri comunali che si presentano con la lista Nazione Futuro a sostegno del candidato a sindaco di Perugia Carmine Camicia. 9 donne, 12 uomini provenienti da ogni settore lavorativo e di diversa estrazione sociale e anagrafica impegnati in un progetto alternativo. 7 i punti di sintesi dell'agenda elettorale di Nazione Futuro a fronte dei 21 del programma complessivo. Istituzione dell'assessorato alle politiche comunitarie, condizione necessaria per sviluppare progetti, accordi di internazionalizzazione con l'obiettivo principale di far arrivare a Perugia risorse finanziarie per incentivare lo sviluppo di imprese, lavoro e servizi. Riorganizzazione della polizia locale che preveda oltre al comando cittadino di staccamenti per garantire al meglio la sicurezza dei cittadini e i servizi gestiti dall'amministrazione comunale. Stabilire due o tre giorni alla settimana durante i quali di pomeriggio nel centro storico non si paghi la sosta, fatto che i titolari possano esibire uno scontrino di acquisto effettuato presso gli esercenti commerciali dell'acropoli. Riqualificazione dei servizi sanitari attraverso una commissione di studio che verifichi la qualità di quegli offerti. Riqualificazione sviluppo e potenziamento delle aree verdi. Proposta di un progetto da finanziare per lanciare un sistema di trasporto pubblico verde, commerzi elettrici non inquinanti e rilanciare attraverso un programma forte l'aeroporto regionale. Garantire il lavoro ai giovani attraverso delle politiche giovanili che permettano una diminuzione della fuga di cervelli verso altri paesi. E adesso andiamo ad ascoltare con Elena Ballarani quello che è il rendiconto di gestione 2018 presentato dal Comune di Perugia. Un risultato di amministrazione complessivo di 85 milioni e 350 mila euro è il valore più alto registrato dall'anno 2007, quello del consuntivo 2018, del Comune di Perugia, che dimostra, fanno notare da Palazzo dei Priori, come le criticità iniziali al momento dell'insediamento siano in gran parte superate. La difficile situazione di liquidità che vedeva l'ente esposto per 40 milioni di euro alla fine del 2013 ha registrato a fine 2018 un'anticipazione di tesoreria e utilizzo di fondi vincolanti di 13 milioni e 940 mila euro, valore destinato ad azzerarsi già dal mese di giugno 2019 attraverso l'attuale manovra di bilancio. Il disavanzo tecnico rilevato all'inizio della consigliatura è di 34 milioni e 648 mila euro che si è previsto di ripianare in 28 anni con un recupero di oltre 3 milioni rispetto a quanto preventivato. Il fondo crediti, di dubbia esigibilità, che a fine 2013 ammontava a 7 milioni e 613 mila euro, registra alla fine del 2018 un valore che supera i 96 milioni di euro, importo destinato a superare abbondantemente quota 100 con lo stanziamento di oltre 15 milioni effettuato per il 2019. I tempi di pagamento verso terzi, che alla data di insediamento dell'attuale amministrazione registravano circa 80 giorni di ritardo, risultano oggi effettuati in tempi rapidi. L'indebitamento del comune, che a fine 2013 superava i 133 milioni di euro, si attesta a fine 2018 a 101 milioni di euro, con un'incidenza pro capite che si è quindi ridotta da 801 a 604. Infine, sul lato della spesa corrente, il comune ha cercato di lavorare per ridurre e contenere la spesa, senza incidere sul livello dei servizi offerti ai cittadini. La spesa corrente a fine 2013 superava i 178 milioni di euro, mentre a fine 2018 la stessa espone un valore complessivo di 155 milioni di euro, con un risparmio di quasi 23 milioni. E adesso andiamo a scoprire che cosa accadrà nella prossima edizione di Umbria Libri. Ce lo spiega meglio Valentina Baldoni. Sulla strada è il filo rosso che collega i numerosi appuntamenti della 25esima edizione di Umbria Libri, la rassegna editoriale e culturale promossa dalla Regione Umbria in programma dal 4 al 6 ottobre nel complesso monumentale di San Pietro a Perugia. Partiremo da una celebrazione della Big Generation che è stata, come tutti sanno, una corrente letteraria che ha fatto sulla strada, al Libro di Kerouac, la sua Bibbia che poi è diventata la Bibbia, un testo fondante per le generazioni a seguire. La strada, luogo di vita, fuga e speranza è il viaggio come metafora di libertà e di conoscenza, ma anche di contestazione nei confronti di una società che riconosce l'individuo unicamente come lavoratore e consumatore. Il viaggio quindi come esplorazioni di nuove culture, ma anche come scoperta di sé e dell'altro. Quindi avremo la presentazione in prima nazionale di un docufilm dedicato a Lawrence Ferlinghetti che ha compiuto da poco cento anni, è stato il più grande poeta beat ancora esistente, nonché primo editore di Allen Ginsberg, Jack Kerouac. Avremo la presentazione sempre in prima nazionale di Little Boy che è la sua autobiografia e sarà fatta questa da Giada Diano che è la traduttrice italiana di Ferlinghetti assieme a Omar Pedrini, frontman di Timoria e con alle spalle un lungo passato di collaborazione artistica con Ferlinghetti. Oltre alla Beat Generation anche la strada di Fausto Coppi e Gianni Rodari e la finale del premio Severino Cesari. Sono stati scremati 15 opere sui 39 e mi piace sottolineare che tra queste 15 opere c'è anche un'opera prima edita da un editore Umbro. La prossima settimana inoltre Umbria Libri sarà al Salone del Libro di Torino e a fine luglio è in programma una nuova collaborazione con il Festival Suoni Controvento. La rassegna musicale che si svolge nel parco di Montecucco, da quest'anno non più solo musicale perché ci saranno un paio di presentazioni letterarie, anzi tre presentazioni letterarie, ci sarà Marcello Fois che parlerà di Renze Lucia Manzoniani nei boschi del parco, ci sarà Mauro Kovacic che presenterà il suo ultimo libro, Mauro Kovacic è un runner, è un grande corridore quindi esperto di montagna e poi ci sarà Gianni Ermeta e Romani che molti conoscono come scrittore attento alle tematiche ambientali e del movimento. E adesso ci spostiamo a Sellano dove si è svolta la festa delle erbe dimenticate. Dalla Borragine al Tarassaco, dall'Ortica al Sambuco, passando per Mentuccia, Finocchio Selvatico e Cicoria, sono solo alcune delle piante a cui è dedicata la festa delle erbe dimenticate che si è svolta a Sellano nel cuore della Valnerina. Promossa ed organizzata dal Comune e dalla Proloco di Sellano con il contributo del Centro per la Documentazione e la Ricerca Antropologica in Valnerina, la giornata è trascorsa tra dibattiti, degustazioni e passeggiate nella natura. Si è parlato di erbe spontanee commestibili, tradizione e valorizzazione nel corso del convegno al Centro Studi Montesanto per la Scienza, al quale hanno preso parte il professor Luciano Loschi, presidente dell'Accademia delle Erbe Campagnole e la dottoressa Elisabetta Pepponi, illustrando gli usi e le applicazioni delle erbe spontanee dal Medioevo ai giorni nostri. Non sono naturalmente mancate le degustazioni dei piatti a base di erbe spontanee. Noi siamo arrivati alla tredicesima edizione di questa manifestazione che si svolge tutti gli anni il primo di maggio e cerchiamo con la nostra volontà, con la nostra perseveranza di far conoscere un po' alle persone le erbe che una volta venivano usate come parte commestibile o anche curative per la popolazione del luogo. Ogni anno cerchiamo sempre di migliorarci e di portare il più possibile le persone a questo evento in modo di far conoscere questi splendidi paesaggi e il nostro borgo che comunque è uno dei più belli che c'è in Valnerina. Forti Infissi, eccellenza italiana nei serramenti, produce finestre in PVC ed alluminio. Da impianti all'avanguardia e processi di ultima generazione nasce un'eccellenza di serramenti che entra nelle case di tutta Italia. Finestre di altissima qualità, create nel rispetto degli standard italiani per garantire i massimi livelli di comfort abitativo, design e risparmio energetico, oggi con il 50% di incentivo fiscale. Vieni a vedere i prodotti forti infissi nello showroom di Perugia presso Vantaggio Casa in via Sandro Penna 39 e in quello di Foligno presso Abita in via Cesare Battisti 85. Rosini arredamenti, soluzioni di arredo moderne e funzionali per soddisfare esigenze in continua evoluzione. Un moderno showroom è una farinameria storica per donare ai tuoi spazi, stile e personalità. Affidabilità, gusto e qualità. Rosini arredamenti, la tua casa come nessuna. Avevo paura di donare il sangue, ma poi con questo gesto ho aiutato Elena, Filippo, Samir, ma anche molte altre persone. DCD Studi Estetici è leader in Italia per il dimagrimento. Vieni a provare le nostre soluzioni innovative. Con ElectroSculpture rimodelliamo, tonifichiamo, eliminiamo centimetri, cellulite e buccia d'arancia. Con crioterapia eliminiamo il grasso localizzato con risultati immediati. Alla DCD sarai sempre sotto controllo medico e con le diete normocaloriche e personalizzate associate ai nostri trattamenti otterrai grandi risultati. DCD Studi Estetici Perugia, via Gerardo Dottori 93, telefono 075 527 1330, dcddimagrimento.com A presto! 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 Ed eccoci a un appuntamento con la pagina sportiva che apriamo parlando di volley, domenica, gara 2 di finale scudetto con la Sir impegnata Civitanova contro la Lube. Si parte dalla netta vittoria in gara 1 di mercoledì scorso con i ragazzi di Bernardi che hanno tutta l'intenzione di allungare la striscia utile. Si avvicina a grandi passi l'appuntamento con gara 2 di finale scudetto. Si gioca all'Eurosuole Forum di Civitanova con fischio d'inizio alle 18. Block Devil si incerca di continuità dopo la prestazione praticamente perfetta ma agevolata anche da un blackout totale dei marchigiani che non hanno mai giocato a livello sfoderato nelle ultime prestazioni. Un livello così alto che li ha portati a conquistare in scioltezza prima la Super Final di Champions a Berlino e poi la finale scudetto chiudendo le semifinali con Trento in sole 4 partite. Una battuta dal resto della squadra guidata da Fefe De Giorgi di cui i Block Devils sono ben consapevoli. Ovviamente che loro sono molto forti, hanno un sacco di giocatori buoni quindi sicuramente sarà una serie molto lunga, molto difficile. Sono molto forti, noi dobbiamo provare a spugnare, sarà molto difficile ma dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo domenica perché comunque sono ogni partita e come diciamo noi è un round quindi dobbiamo essere bravi e provare a spugnare, altrimenti torneremo qua mercoledì e continueremo a dimenticare questa parte subito e tornare in campo domani a pensare alla gara 2. Il fattore campo negli ultimi anni è diventato infatti sempre più determinante nei play-off e anche questo la Sir lo sa bene, le statistiche attestano che in tre anni la Sir in trasferta non è mai riuscita a vincere ma viceversa in casa non ha mai perso. Se lo sfrattiamo bene, altrimenti lo vince in casa quindi non mi faccio molti problemi. Perugia che invece passiamo al calcio, scenderà in campo lunedì sera alle 21 nel posticipo di Serie B allo Zaccheria di Foggia, al Perugia serve solo una vittoria per continuare a inseguire il sogno play-off, al Foggia però serve altrettanto, solo una vittoria per inseguire il sogno play-out. Sarà Aleandro Di Paolo di Avezzano a dirigere l'incontro, coadiuvato dagli assistenti muto di Torre Annunziata e Rossi di La Spezia, quarto uomo di Martino di Teramo. L'arbitro 41enne non ha mai incontrato il Perugia nella stagione in corso ma sono diversi i precedenti. L'ultimo in ordine cronologico risale al 16 dicembre 2017 quando il Perugia perse in casa contro il Bari per 3-1, 13 ottobre 2017 invece fischia Di Paolo in un Foggia-Perugia, guarda un po', in cui i padroni di casa si imposero per 2-1 dunque sarà un replay a tutti gli effetti di quella gara lunedì sera nella stagione 2015-2016 invece Di Paolo ha arbitrato Provercelli-Perugia con vittoria per 1-0 dei Grifoni Livorno-Perugia 1-1 nella stagione 2014-2015 ha diretto il Grifo 4 volte Crotone-Perugia 2-1, Carpi-Perugia 4-0, Perugia-Virtus-Lanciano 0-0, Cittadella-Perugia 0-2 in campo invece domenica con fischio d'inizio alle 15 a Teramo la Ternana che si gioca il possibile accesso ai play-off arrivando undicesima infatti in caso di vittoria del Monza contro la Viterbese nella gara di ritorno della finale di Coppa di Serie C, all'andata i Brianzoli hanno superato 2-1 i laziali la Ternana cederebbe ai play-off traguardo che sembra quasi un sogno rosso-verdi che continuano dunque ad allenarsi, oggi seduta pomeridiana ieri intanto sono tornati a lavorare in gruppo Altobelli e Palumbo così come Defendi, differenziati invece per Castiglia e terapie per Ristov alle 10 e mezzo, stamattina a porte chiuse la squadra di Gallo si è allenata di nuovo per trasferirsi poi in Abruzzo, partenza anticipata dunque in vista di quello che può essere un match che può rilanciare assolutamente la stagione dei Rossoverdi a dirigere la sfida sarà Lorenzin di Castelfranco Veneto assistito da Segar di Pordenone e Minuti di Maniago ed è tutto per questo appuntamento con l'informazione di Tef Channel che torna puntuale stasera alle 19 a presto Grazie a tutti.